Dopo la presentazione dei lavori nell'ottobre dello scorso anno e la fase di progettazione definitiva durata un po' più del previsto è arrivata l'approvazione del progetto. A breve dunque sulla strada provinciale 2 nel tratto tra Andri e Canosa ed in particolare il tratto tra Andri e Montegrosso potranno cominciare ad operare i primi operai per il raddoppio, la realizzazione di complanari e delle servitù per un'opera da circa 10 chilometri affidata alla dittadoria 41 mesi fa. Un'opera da circa 28 milioni di euro con un cantiere che non vedrà ancora operai effettivamente al lavoro finché non saranno completate tutte le procedure d'esproprio che tuttavia sono già in stato avanzato e saranno a carico della stessa ditta e non come in altre occasioni tipo la strada provinciale 1 Andri e Atrani della provincia di Barletta Andri e Atrani. L'8 luglio prossimo infatti inizierà la vera e propria presa in carico dei terreni vicinori alla strada da parte della ditta appaltatrice dei lavori. L'opera è finanziata dal Cipe per oltre 24 milioni di euro mentre la restante quota è a carico della sesta provincia pugliese. L'opera infine rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'intero tratto della SP231 che transita nella batte che urge di lavori di raddoppio e miglioramento della sicurezza. Il tratto tra Andri e Montegrosso si riferisce all'8-2 mentre sono in dirittura d'arrivo anche gli altri due progetti. Il tratto esterno della città di Andria è quello più prospicente alla città di Canosa, entrambi particolarmente pericolosi ed importanti per le diverse comunità interessate.